I progetti più interessanti nascono secondo me nel momento in cui i mondi completamente diversi vengono creativamente uniti tra di loro e in questo caso qua l'aspetto principale per me era sottolineare il grandissimo valore del craftsmanship che c'è sia nell'interpretazione nostra dello spazio e degli oggetti che abbiamo disegnato sia appunto anche dai materiali, dai tessuti che l'azienda produce. L'ispirazione del progetto nasce dalla prima visita del sottoscritto allo showroom di Vitale Barberis Canonico a Milano. Quando sono entrato la prima volta il feeling che ho avuto era veramente quello di trovarmi una sorta di gentleman club. Di conseguenza proprio l'atmosfera del luogo ci ha portato poi a ragionare su creare quasi un mondo fantastico popolato da tutta una serie di personaggi ipotetici che abbiamo interpretato come se fossero delle lampade ma delle lampade antropomorfe che poi sono vestite in un certo modo. Da quando sono nato ho sempre visto il vetro come un materiale che veniva interpretato appunto da questi mastri, da questi artigiani e in maniera eccezionale quindi un disegno che diventava un oggetto per me era all'ordine del giorno. Questi mestieri sono la base di quello che facciamo e quindi di conseguenza per me è trovare delle situazioni dove riesco a mettere all'interno di un progetto, un materiale, un'artigianalità che in qualche modo so che sta soffrendo ma posso mostrare in qualche maniera completamente diversa un utilizzo più interessante. Posso in qualche modo aprire delle piccole porte e dare l'opportunità di vedere appunto quali incredibili lavori si possono fare con determinati tipi di materiali. I tessuti chiaramente è un materiale molto interessante perché non ha quasi forma, ha una struttura, ha un colore, ha un pattern ma non ha struttura e ha bisogno in qualche maniera per essere visualizzato in un certo modo di capire la sua tridimensionalità come risponde alla luce, come viene scolpito, come viene in qualche maniera interpretato. Uno degli elementi più riconoscibili in questo tipo di lavoro sono i manichini. Nel nostro caso l'idea era quella in qualche maniera di ribaltare completamente il concetto di manichino far sì che comunque un oggetto come una lampada potesse in qualche modo arrivare ad avere delle sembianze antropomorfe ma creare comunque dei volumi. Questi volumi in qualche modo andavano ad aiutarci a creare tutta una serie di elementi per cui sopra questi possono crearsi dei vestiti ad hoc per un ipotetico personaggio che ha anche una personalità di un certo tipo. Quindi volevamo creare appunto questa sinergia, se vogliamo, tra mondi ma non solo dal punto di vista proprio, come dicevo prima, didascalico ma bensì andare a reinterpretare i processi e alcuni elementi dei processi per arrivare poi al risultato finale.